Un 36enne senegalese è stato arrestato dalla polizia pescara con l'accusa di rapina. Il giovane, fermato ieri sera dagli agenti della squadra volante, ha poi ammesso le sue responsabilità dinanzi ai poliziotti. Sarebbe responsabile anche di un altro colpo commesso il 2 febbraio scorso, sempre in città. È un'attività immediata di ricerca di polizia giudiziaria, gestita dalla squadra volante, a seguito di questa rapina che era avvenuta alle ore 20 presso un esercizio commerciale supermercato di via del circuito. Le volanti si sono messe alla ricerca del colpevole, quindi in base alle descrizioni. Sospettando che potesse essere un noto pluripregiudicato senegalese tossicodipendente, quindi con vari precedenti penali per furti, aggravati, spaccioli stupefacenti, hanno effettuato un appostamento proprio sotto il ferro di cavallo. È stato positivo perché poi il soggetto è stato rintracciato, è stato perquisito, è stato trovato in possesso della rifurtiva, in possesso anche dell'arma utilizzata per minacciare la cassiera e per impossessarsi dei 600 euro. È stata recuperata anche la felpa e il giubbotto particolare che indossava al momento della rapina. Successivamente, quindi durante la redazione degli atti di polizia giudiziaria, quindi anche grazie all'intervento del commissario Zaccone, quindi anche ammesso e confessato di aver commesso il 2 febbraio un'altra rapina con le stesse modalità in via dei Bastioni, presso una locale osteria. Grazie.